In carico di adrenalina, di energia, arte, cultura, stasera ho visto veramente di tutto. Io domani mattina ringrazio il sindaco per avermi dato questa nomina perché vengo da tutto il settore, dalle politiche sociali, per molti anni, quindi ho seguito questo territorio per tutto quello che non c'è, del disagio, mentre invece adesso rappresento un settore dove c'è tutto, c'è tutto nel senso perché ci siete voi che fate veramente tanto, sto approfondendo questa conoscenza, sono appena sei mesi e scopro, infatti in queste circostanze scopro tutto quello che c'è, tutto quello che ancora si può fare e soprattutto quello che c'è che può essere messo in rete. Quindi grazie a voi, all'Associazione Culturale Movi Giullali, grazie alla Fita che conosco quindi nelle sue rappresentanze stasera, al maestro e veramente ringrazio tutti quanti voi, io per l'amministrazione spero di poter portare avanti un progetto nuovo, un progetto diverso per poter valorizzare quello che già c'è ma che ha bisogno chiaramente di avere più spazio. Quindi grazie ancora a tutti voi e grazie a tutti.